La Popular Dance Musical School porterà in scena questa sera alle 20.30 al teatro di Porto Torres il musical Raccontami una storia. Si tratta della storia della famiglia Scognamillo alle prese con il terribile Martino, un bambino che non vuole mai dormire. Valeria Ganadu. Il 17 dicembre andrà in scena il teatro Parodi Raccontami una storia. Raccontami una storia è un musical completamente autorale scritto da Andrea Zeroni e diretto da me portato in scena dalla classe della Popular Music School I Palcoscemi. Quindi il nome è già tutto un programma. È un musical comico, un musical sopra le righe che racconta di questo bambino che non vuole dormire nella maniera più assoluta. Quindi la famiglia cerca modi leciti e illeciti per far dormire questo bambino. Il divertimento è assicurato. Aprirà la serata la classe di K-pop. La classe di K-pop è la prima classe di K-pop in Sardegna che porterà in scena uno spettacolo diretto dall'insegnante Kian Palazzolo.